Orfeu, il suo personaggio decide di rovinare la vita di Achille Rebellis per vendicare la madre. La rabbia nasce come difesa, sei un tipo che si arrabbia facilmente? Sì, nella vita? Nella vita vera? Sì. In questo caso ho lavorato molto su una parte della mia vita che non avevo ancora mai raccontato. Esiste un Silvio... Quindi non sei un tipo che si arrabbia facilmente? Lo so, non lo so, voglio dire che ho usato delle cose della mia vita che non avevo ancora raccontato nei miei film. Però c'è anche questa parte dentro di me, c'è fuoco, insomma c'è rabbia e in questo film l'ho tirata fuori. E poi un'ultima cosa, ti abbiamo visto un modello per la Levis, sei anche regista e fotografo per un'installazione di Fendi. Ma Silvio Muccino è ora attratto dal mondo della moda? No, in realtà no, in realtà mi diverte giocare con la macchina da presa e lo faccio più che altro nei videoclip. L'ho fatto per Grignani, per Ine Gramaro, ora per Liga Bue, insomma mi diverte giocarci con la macchina da presa. Sebbene il mio lavoro è un altro... Quindi tra poco anche regista. No, andiamoci piano. No, 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 io fino a che... insomma scrivere mi piace moltissimo, recitare adoro. E questo mi sta dando delle grandissime soddisfazioni. Se poi arriverò alla regia un giorno devo ancora scoprirlo. Allora... Allora... Grazie a tutti.